Signor Derby! Signor Derby! Buongiorno, Rossana. Dov'è Jason? È partito. Partito? Per dove? Quando? Non so cosa dire. È venuto da me ieri sera e mi ha detto che tornava a Fremonti. È partito all'alba questa mattina. Ho avuto l'impressione che volesse mettere una distanza fra voi e lui. Ma per quanto tempo è, Mara Lontano? Non l'ho detto. Oh, che pazzo! Siete innamorata di lui, vero? Come l'ha presa vostro padre? Quando ha saputo che sono innamorata di un altro, non ha più voluto che sposassi Bailey a nessun costo. Potesse ritrovarlo? Le zone selvagge sono vastissime e i pericoli sono molti. Non illudetevi di trovarlo. Rossana, cosa contate di fare? Non lo so, signor Derby.